Un cordiale saluto dalla redazione di Flores Multimedia, in studio Marco Gargini. In A1 code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, in A11 code tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FIPILI code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, code a tratti per traffico intenso tra la Strassigna e Firenze Scandici in direzione Firenze. Rallentamenti in entrambe le direzioni per sensi unici alternati sulla statale 63 circa 11 km prima del Valico del Cerreto e sulla statale 67 Tosco-Romagnola tra Brucianesi e Porto di Mezzo. Infine per i lavori alla linea 3 della tramvia a Firenze, stasera in orario 21.1 ci saranno restringimenti di carreggiata in Viale Morgagni per la posa dei pali tramviari, garantito il passaggio per i mezzi di soccorso in emergenza. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!